La senatrice Ferrara, la dottoressa Ferrara, ha aperto il campo al fatto che c'è una legge regionale numero 2 del 2018, c'è quindi un tavolo di coordinamento in regione Piemonte di tipo istituzionale che è molto interessante e molto importante perché tiene mano e comunque cerca di mantenere quello che possiamo definire un setting interistituzionale, setting che permette questa attenzione alla materia di cui oggi trattiamo, materia del bullismo. Ora, e da qui posso iniziare a fare un po' il nero psichiatra. Kenberg, che è appunto uno psichiatra importante, dice che bisogna assolutamente tener conto dei cambiamenti della cultura contemporanea perché queste influenzano le relazioni oggettuali. Ora, le relazioni oggettuali influenzano sostanzialmente le costruzioni della relazione. Alla base del bullismo non c'è dubbio che esista una difficoltà e una matrice di tipo relazionale. Se posso fare, faccio solo titoli e poi perché non c'è possibilità, so che ho poco tempo, allora la società di oggi è una società che qualcuno definisce società liquida, società nella quale esiste effettivamente un deterioramento dei confini, una difficoltà con un incremento forte del senso di instabilità e di precarietà, un senso forte di instabilità nel senso della identità, quindi non una identità solida, non identità stabile. Ora, il passaggio da questa società solida a una società liquida ha determinato anche un venir meno, un'incertezza di quelle che sono tradizioni, valore, credenze e un venir meno della dimensione più sovraindividuale, più collettiva rispetto alla dimensione più individuale. D'altra parte c'è, e su questo non abbiamo dubbio, una decomposizione dei legami tradizionali e in questo sono coinvolte anche le istituzioni, un passaggio da una società, se vogliamo, di produttori a una società più di consumatori, dove conta molto l'aspetto della seduzione, del desiderio, del creare desiderio e seduzione. In questa cornice, dunque, l'identità non è qualcosa, come dicevo, di durevole all'interno della vita, ma è continuamente fluida, multipla, costantemente smantellabile e quindi c'è una condizione, uno sfondo storico dei nostri giorni impregnato da frammentazione e incertezza. Anche il clima affettivo si è profondamente modificato per le nuove generazioni e anche il clima e anche il senso dell'esercizio della funzione genitoriale, che è profondamente cambiata. Perché ai tempi miei, io sono nato nel 60, ho avuto la fortuna di avere un papà che mi guardava e io capivo, io capivo e mi guardava, non c'era bisogno di grande trasmissione di culture di cinghie, cioè c'era un profondo rispetto e c'era un senso e una matrice di una cosiddetta società forse autoritaria, è un pezzichino da cambiare sicuramente, ma certamente anche autorevole e questo è un elemento su cui poi vorrei ritornare. Non lo dico io, dice Recalcate, ma ancora prima di lui Lacan parla di evaporazione del padre, poi c'è Zoe eccetera. Vado rapido perché so che ho poco tempo, la palla me la levo perché un attimo non riesco neanche a girare fuori, ecco, ecco, quindi, no ma poi tanto tocca a lei la palla dopo, quindi l'ho passata prima, questo si mostra da parte mia una bondà, ecco passo prima la palla. Allora, dicevo, sicuramente non c'è più la concezione di famiglia etica, abbiamo la famiglia affottiva, che è una bella camurria perché siamo tutti amici, siamo tutti vicini, siamo tutti pari, questo va molto bene perché in qualche modo aiuta ad ascoltare i figli e a capire quali sono le loro propensioni. Qual è il nostro problema di oggi genitori? Che forse abbiamo un pizzichino esagerato perché abbiamo voluto rendere i figli addirittura felici e questo voler renderli felici e abbiamo forse preservato eccessivamente dal dolore inevitabile della vita e della crescita perché chiunque di noi quotidianamente nella vita sappiamo dei nostri collaudi esistenziali viviamo all'interno di incertezze, di conflitti, di camurria, di sciarra, di litigi e così via e quindi non si può essere felici, ecco questo è il tema. Allora i compiti dei genitori si sono modificati e quindi non c'è la trasmissione una volta di pratiche, di normi, di valori, ma c'è l'attenzione, l'ascolto. Questo è un fatto positivo, quello che è un pochino di cui abbiamo esagerato è perché abbiamo creato un'eccessiva orizzontalizzazione del rapporto, è come se avessimo perso quel senso di dimensione, di trasmissione, di valore eccetera. Allora cos'è accaduto? che la caduta del padre normativo e quindi l'assenza e un po' indebolimento delle regole, delle leggi e dei confini, poi arrivo poi, questo porta a una sorta di convincimento che uno possa godere all'infinito senza limiti. Qualcuno parla ma vada avanti che ho poco tempo, comunque c'è una superficialità al posto della profondità, la velocità si è sostituita alla dimensione di riflessione, la comunicazione, cos'è la comunicazione? Sui stifisteri e tit, mit, come si chiamano? Queste continue, ecco, l'endice, non c'è comunicazione ma anche l'elemento di visa visa. Allora tutto questo ha portato a una dimensione della libertà senza responsabilità e quindi andiamo al tema dell'emergenza educativa. Purtroppo siamo arrivati a questo. La domanda è perché no, perché non posso far questo, perché non posso far quello? Cioè questo elemento di spostare sempre più in là il senso di limite e il confine ha determinato un profondo indebolimento sia del ruolo dell'istituzione in genere, sia nel nostro ruolo di tipo educativo, ma sia anche nel nostro ruolo delle nostre funzioni. Faccio un esempio che mi ha molto colpito, l'hanno fatto gli americani, ogni tanto qualcosa azzeccano anche loro. Ecco, tra il 1975 e il 2015, per quanto riguarda i medici, io sono un neuropsicario infantile, allora cosa succede? Che nel rapporto e nella relazione tra il medico il paziente, prima c'era una fiducia dell'80% nell'anno 75, nel 2015 siamo arrivati al 37%. Quindi questo è un dato che riguarda la mia professione, che dà l'idea di quanto fortemente si sia indebolita, anche il tempo sta passando, ecco. Allora, cosa è cambiato? Vado avanti, nella nostra epoca, allora questo che era la premessa, il macrosistema, eccetera, cosa porta? a modificare anche la patologia, cioè non c'è più la patologia del fino all'Ottocento. Vi ricordate Freud con tutti i suoi tomi sull'isteria? Magari ritornassimo a essere isterici? Invece no, invece adesso anziché gli isterici abbiamo la diction, su termine inglese che vuol dire che uno ha la dipendenza continua, ma da che cosa? È già stato detto, non bastano i videogiochi, l'esterno, l'alcol, gli oggetti, il computer, lo smartphone, eccetera, ma tutto questo serve per dare una specie di compenso al dolore mentale, quindi ritorna al dolore mentale, perché questi ragazzini stanno male, hanno un malessere intrasoggettivo che si vede, loro cercano di riempirlo attraverso questo ingurgitare continuamente Occetti dall'esterno, perché alla base c'è una profonda dimensione di fragilità narcisistica, c'è il bisogno di essere accettato dall'altro, soprattutto dal gruppo di pari come viene detto, questa sofferenza mentale intrapsichica non si riesce in qualche modo a tollerare, non si riesce a mentalizzare, allora io lo debbo sostenere introducendo elementi narcisistici dall'esterno che sono gli oggetti, quindi il cibo, il computer, l'alcol e così via, e quindi ci sono coste continue abbuffate. Perché internet? Attenzione, perché questa è una cosa interessante, perché l'internet in particolare, che io non posso demonizzarlo, però mi fa antapatia, questo è chiaro, è una sorta di surrogato materno onnipotente, sempre presente, ed è gratificante, badate bene, per diverse situazioni. Uno, perché senza limiti, non è sulla pubblicità senza limite, questo è, uno si attacca lì appunto di notte e di giorno, è come se non ci fosse il limite, il confine, è come se vivessimo in una situazione di atemporalità, ed è terribile avere una situazione di atemporalità dal punto di vista del confine. Primo, senza e soddisfano la sensorialità, visto, udito, tatto, quindi c'è una soddisfazione anche della sensorialità, addirittura della socialità, perché apparentemente comunicano l'altro, ma non comunicano veramente, della intimità, e poi danno possibilità della trasgressione, perché trasgrediscono, quindi c'è anche questo ulteriore elemento. Quindi voi capite che è un surrogato molto potente, molto forte, e questo spiega perché è così dilagante e, come si diceva, è così profondamente pervasivo. Allora, fa ancora tempo? Galimperti, che è un grande, voi sapete, cosa dice? Lui conviene e sostiene che viviamo in un deserto di insensatezza, questo mi colpisce molto, perché lui che è anche uno psicoanalista, in un'intervista dice, molti pazienti vengono da me e mi chiedono qual è il senso della vita, ma come ci vuoi fare a dire di qual è il senso della vita? Cioè, ricercare il senso della vita è una cosa tremenda, allora, perché lui parla che siamo in un deserto di insensatezza, cioè stiamo continuamente ricorrendo, andando a ricercare il senso profondo della nostra vita. Allora, c'è un'attimosfera che io non condivido così inichilista a lui da te ama, ma secondo me c'è anche un elemento forte di speranza, però guardate, vi assicuro, neurobservia infantile, che la sofferenza psichica si è profondamente modificata, che la componente neurotica purtroppo si è ridotta più a scapito di quella psicotica, ahimè, che c'è una forte componente da patologia narcisistica, c'è un attacco a sé corporeo, quindi come dicevo prima, e vi dico un dato che questo è sicuro, il 4,7% di ricovera la regina Margherita avviene per bullismo, io ve lo ripeto, 4,7%, non è una diagnosi, non dobbiamo fare ricerca, perché uno arriva lì, magari fa un tentativo anticonservativo, vuole farsi fuori per capirci, perché è stata vittima di bullismo, quindi questo è un dato assolutamente comprovato, di quello che viene in qualche modo certificato, oltre a quello che, quindi i sintomi neurotici in qualche modo sono venuti meno, e vabbè, di fronte a tutta st'angoscia, di fronte a tutta st'offerenza, non è che possiamo arrenderci, e questo è il tema, io credo che ognuno di noi nel proprio ruolo, nelle proprie competenze, nel proprio ufficio, deve accendere un piccolo focolare di speranza, deve agire attraverso un elemento che, anche questo è studiato in neuroscienza, dottoressa Morese, che è attraverso i neurone a specchi, che si chiama quello che è, come dire, un incoraggiamento verso l'altro, se noi, parlo da me come neuropsicata, l'insegnante, piuttosto che ognuno di noi, sviluppa, guarda l'altro e lo guarda, con un elemento di assoluta convinzione che il mondo può cambiare, e quindi i neurone a specchio si attivano positivamente, questo dà una contaminazione affettiva, concreta, misurabile, nell'altro che è di speranza e di cambiamento. Voi se volete fare un esperimento anche di come la nostra pelle abbia anche una funzione sociale, se uno si abbraccia, non fate cosa non ti chiede abbastanza, ma dico, ma insomma, se vi abbracciato un attimo, proverete che il nostro cervello è in grado di misurare anche la funzione, non solo somatosensoriale, di contatto fisico, ma la corteccia è in grado di leggere la parte affettiva e questo produce un incremento di alcuni ormoni favorevoli, da quell'ossitocina, piuttosto che, che favoriscono il benessere. Questo spiega perché a volte un lungo e forte abbraccio fa star bene e quindi io vi abbraccio tutti.